E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a giocare con quella che secondo me è veramente e giuro che non sto scherzando questa volta lo dico veramente sul serio l'arma da supporto più forte del gioco sto parlando dell'arma da supporto del sito sognante teoria della traduzione che è qualcosa di devastante ma andiamo subito a vederne i perk innanzitutto abbiamo un telaio adattivo quindi un'impugnatura di ottima fattura affidabile e resistente due tipi di merino controllo ss merino stabile per arma da supporto che aumenta la maneggiavolezza e la stabilità e tattico ss un merino preciso per arma da supporto che aumenta leggermente la gittata ho preferito mettere questo che aumenta la maneggiavolezza e la stabilità perchè la stabilità pecca un pochino perchè comunque la gittata vi assicuro che è buona così due tipi di caricatore, caricatore in lega quindi si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto e caricatore aggiuntivo il caricatore di quest'arma è progettato per una capienza maggiore ho preferito aumentare la velocità di ricarica perchè in situazioni di critiche mi ci trovo meglio dopodiché il ruper che non sembrano chissà quanto forti su un'arma da supporto ma che vi assicuro sono essenziali secondo me ovvero sistema di autofuoco, tenere premuto il grelletto permette di sparare in modalità automatica e momento zen, causare danni con quest'arma ne aumenta la stabilità il sistema di autofuoco è utilissimo ragazzi in quest'arma da supporto perchè la danni è praticamente un'automatico e adesso vi faccio anche vedere subitamente il perchè ok iniziamo subito e vi premetto che penso che giocerò tutta la partita con questa cosa perchè è veramente qualcosa di devastante fa malissimo si riesce a usare, la si può utilizzare come un automatico, questa non è la norma da supporto, è un automatico guardate, guardate cosa fa sta cosa adesso ne panno con il cadavere, guarda com'è cacchio è morto questo ma muore un attimo meglio cioè fa 51 in testa ragazzi allora questa arma da supporto è devastante a parte che con il sistema di autofuoco vogliamo spariamo in automatico e si riesce anche a controllare abbastanza bene il rinculo perchè con il momento zen no crepa ovviamente rimane in norma da supporto quindi dobbiamo cercare di utilizzarla dalle corte distanze anche se la gittata è abbastanza alta avete visto che si riescono a fare cose abbastanza comode dalle lunghe distanze ha una cadenza abbastanza alta in realtà perchè ha una cadenza di adesso andiamo subito a vedere 300 proietti nel minuto e fa 57 in testa ragazzi 57 in testa è un qualcosa di pauroso ovviamente per quanto riguarda le corte distanze però se questi team shottassero un attimino di meno io vado in bocca al raggio del nemico il problema è che dobbiamo per forza mantenersi delle corte distanze se no, vabbè se no ci spaccano la faccia e un'altra piccola pecca è quella della maneggevolezza secondo me che è abbastanza lenta quindi l'arma si muove abbastanza lentamente e se non, se diciamo andiamo fuori asse con la mira diventa abbastanza difficile riprendere cioè guardate quanto fa male fa 51 in testa qualcosa di spettacolare per un'arma da supporto è veramente tantissimo uno no quasi se non erano in due l'avevo fatti questo ha spaccato quattro colpi per prendermi ora ragazzi non dovete confrontare questo punteggio che sto per fare con un punteggio che avreste fatto con un'arma normale perché comunque è un'arma da supporto giocare solo di arma da supporto è abbastanza difficile anche se prima ho fatto 25 kg e 2,5 di dati che non è male però come arma da supporto ragazzi fa veramente malissimo una cosa che non ho detto è che secondo me questa è un'arma con cui non è necessario prendere in testa cosa vuol dire che comunque fa parecchi danno anche in body dicevo fa parecchi danno anche in body basta se la utilizzate senza sistema di autofuoco potrebbe essere anche più facile ma prendere in testa però ovviamente pecca sulla cadenza però veramente se riuscite addirittura a prendere in testa con il sistema di autofuoco cioè spaccate fate fate uccidete il tipo con quattro colpi che vuol dire morto e non sparate anche cinque questa volta oh e ce la facciamo? uccide qualcuno? da vicino non è un problema prendere in testa prendere in testa cioè veramente se siete molto vicini prende sempre in testa l'avete visto vai tipo ti salvo io no non l'ho morto ma quanto è forte sta cosa ragazzi quanto è forte perché poi comunque in testa fa al corpo fa 35 che non è affatto poco perché se pensate che il querelante che è un automatico da 450 colpi al minuto fa 25 in testa ok abbiamo vinto adesso non penso di aver giocato benissimo però considerando che ragazzi ho usato un'arma da supporto il punteggio che penso di aver fatto non è affatto male adesso vediamo sicuramente ho giocato per già la partita di prima infatti ho fatto no 20 kill e 2,5 non ho giocato male ragazzi ho giocato bene non c'è niente da dire adesso andiamo subito con la seconda partita e veramente questa arma da supporto è devastante se non l'avete droppata mi consiglio di droppare assolutamente cercare di dropparla fate pozzi eventi eroici quello che mi pare ma cercate di dropparla perché spacca veramente adesso andiamo subito con la seconda partita e vediamo cosa riusciamo a fare ok siamo in centro città vediamo un po' cosa riusciamo a fare che non è abbastanza cioè non è parecchio larga come mappa ha asfaltato e c'era il suo amico tra l'altro ho anche un caricatore da 15 quindi considerando che possiamo potenzialmente uccidere in 4 colpi abbiamo 3 kill a caricatore qua con anche qualche colpo un po' buttato ovviamente in un metà del genere dobbiamo anche sempre stare attenti ai pompa perché ragazzi rimangono comunque delle armi molto forti da battere che appunto ovviamente come ho fatto a morire così tardi dal tipo ma stanno tutti appiccicati questi sempre guardali tutti appiccicati uno col corpo a corpo l'altro col pompa dai guarda qui ragazzi questi giochiano solo col pompa incredibile cioè non riesco a beccare dalle corte distanze che hanno un pompa costantemente nice ok forse potrebbe essere ancora nice yes devasto ragazzi che bella persona che vuole morire ti ho un po' asfaltato a te mi sa che non ti asfalto infatti i pompa ragazzi se non li prendiamo in testa e che come ho già detto è parecchio difficile è impossibile che li battiamo è morto non capisco come faccio ad essere primo se sto giocando male pensa agli altri avversari gli altri alleati come stanno giocando ok si si vieni vieni a farmi col pompa scemo aiuto non so dove andare sono ovunque dov'è che stanno più vicini no sono morto mi nascondo nei cespugli no che ragazzi questa partita non ho giocato per niente bene anche se i miei alleati non è che sono stati da meglio ho giocato sicuramente meglio la partita scorsa anche perchè in questa ogni volta che trovo un tizio alle corte distanze va al pompa quindi devo cercare di allungare il più possibile infatti ho fatto uno di rate addirittura comunque l'arma da supporto ragazzi è veramente qualcosa di devastante cioè l'avete visto nella partita precedente fa malissimo e anche in qualche kill in questa in realtà non me la sono cavata male e io vi consiglio assolutamente di dropparla come ho già detto prima fate eventi pubblici pozzo sfide scendenti quello che volete ma cercate di dropparla perchè spacca quindi ragazzi direi che se vi vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete tutti quelli che conoscete che non conoscete che c'è la talissima se conoscete anche su Instagram Facebook come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo nonissimo fate un sito e detto questo ci vediamo alla prossima ciao io sono Gaud e la tua luce è mia